Il giorno dopo le dimissioni del primo rettore della Fraternita dei Laici, Lilietta Fornasari, insieme a tutto il direttivo a causa principalmente dei contrasti con l'attuale amministrazione, è lo stesso sindaco Ghinelli ad esprimersi sul Museo dell'Oro al Palazzo di Fraternita, uno dei progetti dell'ente in corso d'opera, il cui futuro è ancora avvolto nell'incertezza. Mi sono espresso nel senso che il Museo dell'Oro va un po' meglio definito rispetto alla semplice declinazione Museo dell'Oro. Bisogna studiare bene di che cosa si tratta, io credo che sia un'iniziativa alla fine e poi vincente per la città e credo che sia corretto anche mettere in Palazzo di Fraternita, però al momento attuale un progetto non c'è su questo museo dell'Oro, quindi va un po' studiato, coordinato e soprattutto va reso compatibile con le altre manifestazioni che ci sono in città in vari periodi dell'anno, in vari periodi di ogni mese, mi riferisco alla fiera evidentemente, quindi io non ho mai detto che non lo voglio fare, e sono sempre rimasto perplesso circa il fatto che nessuno mi ha saputo spiegare che cos'era, il che vuol dire che il progetto deve ancora nascere. Lo faremo nascere compatibilmente con i locali e la bella realtà che ci lascia l'Ileta Fornasari.